Grazie, buongiorno, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Quindi è la prima volta che parlo in pubblico dopo il lungo isolamento che ci ha avvolto e quindi questa cosa aggiunge all'emozione consueta anche però un senso di grande soddisfazione e felicità per essere finalmente approdati a una dimensione dove c'è anche la presenza. Nonostante la relazione schermo a schermo ci abbia salvato e in particolare abbia salvato anche molta parte della mia vita avendo fatto tante terapie online in questo anno. Però anche sentire la gioia dei pazienti che tornano allo studio e che ritrovano appunto la relazione in presenza è estremamente importante. La disabitudine un po' all'incontro pubblico mi spinge a rompere il ghiaccio per questo incontro, l'hanno chiamata lezione ma non so se deve avere questa solennità. Questa traversata, ecco forse la parola più giusta è traversata visto che il libro si intitola Arcipelago N e che il tema del narcisismo, il continente del narcisismo è così immenso, è così difficile e anche così difficilmente scalabile che ho pensato che frammentare il continente in un arcipelago e prendere una barchetta poi avendo a che fare con una collana che si chiama Le Vele era ancora più di buon auspicio, ecco la traversata sarà sicuramente facilitata muovendoci dentro l'arcipelago. Prima di iniziare a leggervi alcuni brevi pagina, un paio di pagine del mio libro voglio assolutamente ringraziare tutte le persone dell'ufficio stampa di Einaudi che hanno fatto un lavoro bellissimo insieme a me per far conoscere questo libro e il mio editor Andrea Bosco che è qui e che saluto con molto affetto oltre che naturalmente l'intera casa editrice. Allora, il libro inizia con un'ammissione che è fondamentale per poter parlare di questo argomento e anche perché è un'ammissione che libera il campo da tanti equivoci, da tanti benpensantismi, da tante anime belle e da tante ingenuità, cioè siamo tutti narcisisti ma non allo stesso modo e non tutti abbiamo un disturbo narcisistico della personalità. Scrivendo Arcipelago N avevo in mente due obiettivi, illustrare le diverse forme di narcisismo ed esplorare la zona di confine tra un carattere con tratti, caratteristiche narcisistiche più o meno accentuate e una patologia narcisistica. È un territorio importante, questo territorio di confine tra la presenza di un tratto, di uno stile e invece una solidificazione, diciamo così, patologica. È un territorio importante, non soltanto per chi fa il mio mestiere ma per tutti noi quando entriamo in relazione con qualcun altro il cui narcisismo in qualche modo ci insospettisce oppure ci interroga. È un territorio, dicevo, importante perché è lì che il piacere di piacersi e anche il piacere di piacere si trasforma in una sofferenza. Molto spesso una sofferenza per sé e qui entreremo in una dimensione dell'arcipelago che è quella della fragilità narcisistica ma molto spesso, direi quasi sempre, una sofferenza per l'altro e questo invece è un altro scoglio dell'arcipelago narcisistico che è quello della prepotenza, dell'arroganza e della grandiosità. García Lorca scriveva, fiore dell'amore, narciso, il mio dolore, sempre. Quindi la cosa interessante di questa parola magnetica che ha attraversato moltissimi secoli, pensate che la troviamo in Ovidio nelle metamorfosi e questa è la sua apparizione mitica, poi rimbalza fino alla nascita della psicoanalisi con il grande saggio di Freud del XIV, introduzione al narcisismo e poi rimbalza fino agli anni 70 con un saggio fondamentale di Christopher Lash che è la cultura del narcisismo, quindi mito, clinica, psicoanalisi e sociologia. Quindi quando una parola occupa uno spazio all'interno di tante discipline e connette tante discipline è una parola magnetica, è una parola importante, è una parola su cui vale la pena di soffermarsi. La consapevolezza del nostro valore, il bisogno di essere amati e riconosciuti, la capacità di tollerare le frustrazioni e di regolare l'autostima sono tra le principali componenti del nostro equilibrio psichico. Determinano il colore delle nostre relazioni e costruiscono il livello di sicurezza e piacere delle nostre vite. Stiamo bene quando abbiamo una percezione realistica, quindi non idealizzata, delle nostre qualità e delle nostre competenze e quando non ci sentiamo minacciati, per esempio sotto la lente di ingrandimento del giudizio altrui, oppure troppo vulnerabili. Cioè quando abbiamo una fiducia affettuosa, né troppo elevata né troppo scarsa, in noi stessi, quindi anche nel nostro corpo, di cui accettiamo i limiti e i difetti, e sperimentiamo in modo elastico sentimenti di padronanza, di efficacia e di vitalità. Sono caratteristiche queste, come vedete la mia traversata inizia nella parte buona del narcisismo, diciamo così nel percorso intermedio che è quello di un narcisismo fisiologico, anche se risultante sempre di molte negoziazioni e di molti complessi. Una strada questa della, diciamo così, costruzione ed esperienza del proprio amore di sé che inizia a formarsi nel contesto delle prime relazioni con i nostri genitori, quando l'esperienza di sintonizzazione reciproca, cioè di impararsi reciprocamente, di capire che cosa è nella mente dell'altro, non necessariamente per soddisfarlo e prevederlo immediatamente, ma per creare appunto una sintonizzazione che consente una fioritura condivisa, diciamo così. Ecco, quando questa esperienza di sintonizzazione nell'ambito delle cure che ci forniscono i nostri genitori, o come si dice oggi più modernamente, i nostri caregiver, ci consente di interiorizzare questa cura. Quindi, diciamo, la bontà narcisistica dipende molto dalla capacità di interiorizzare qualche cosa che abbiamo fin dall'inizio percepito come buono, come accuditivo. Chi si occupa di noi, chi ci nutre e chi ci accarezza, contribuisce a farci crescere pensandoci meritevoli d'amore. Una grande fiera, una delle grandi fiere della sofferenza narcisistica, dicevo prima, è curioso che un tema così connesso con il piacere di sé in realtà sia estremamente connesso con il dispiacere e con il dolore. Una delle tante fiere che incontriamo nella traversata narcisistica è proprio il sentimento di un'indegnità, il sentimento di non essere meritevoli d'amore che ha davvero origini molto antiche, primarie, nelle relazioni primarie, nelle tematiche dell'accudimento e dell'attaccamento. La costruzione della nostra salute narcisistica vive nello scambio, mentre impariamo a camminare sull'asse d'equilibrio che collega l'io al tu e inevitabilmente al noi. E questo è un tema che è importante sottolineare oggi. Io credo che in un momento in cui anche socialmente, anche dal punto di vista, diciamo così, della grande comunità di un occidente benestante, che è semplicemente una piccola porzione del mondo, non è certo la grande porzione del mondo, e credo anche che narcisismo sia una parola da declinare culturalmente, oltre che psicologicamente, perché è molto diverso diciamo così, l'approccio alle culture del narcisismo in base a quelle che sono non solo le tradizioni storiche, psicologiche, locali, ma anche le condizioni dell'esistenza e della piacevole o meno piacevole esistenza. Però, dicevo, è importante riflettere su questo tema nel momento in cui siamo stati messi a confronto anche in modo forzato con noi stessi, con la nostra solitudine, con la prima delle convivenze che è la convivenza tra sé e sé. E quindi tutto il tema del piacersi, del non piacersi, del negoziare spinte differenti è un tema estremamente importante che il regime, diciamo così, un po' di introversa clausura che ci è toccato, giustamente che ci è toccato perché non c'erano alternative, ci ha messo immediatamente di fronte alla dimensione del narcisismo e della relazione con il sé. Ma anche, soprattutto nelle condizioni di convivenza, ci ha messo di fronte all'aspetto relazionale del narcisismo che non è solo mi piaccio o non mi piaccio ma è anche ovviamente ti piaccio o non ti piaccio. Quindi il passaggio dall'io al tu è immediato e la dimensione pandemica ha enfatizzato costringendoci anche a riflettere forse su una corsa un po' onnipotente di benessere e di sicurezza e di immortalità anche dal punto di vista medico anche da un punto di vista sanitario ci ha un po' frenato perché ci ha costretto anche a calare la dimensione della soggettività narcisistica o al limite della coppia narcisistica dentro un noi. quindi questa circolarità dell'io del tu e del noi che poi si ripercuote sulla dimensione dell'io perché se non abbiamo un buon rapporto con la comunità inevitabilmente abbiamo problemi nel rapporto con noi stessi e lo manifestiamo poi nella comunicazione ecco questa circolarità che ovviamente esiste da sempre ed esisterà sempre è stata messa molto in primo piano dal periodo che abbiamo attraversato. sappiamo bene come è difficile cadere dunque da quest'asse di equilibrio che collega l'io il tu e il noi e quante sfide e quanti ostacoli incontriamo alcune arrivano dal temperamento cioè dalla nostra dotazione biologica c'è una dotazione biologica anche della dimensione di personalità della dimensione caratteriale gli studi degli ultimi 20-25 anni sui neuroni specchio così legati alla possibilità di identificarsi nell'esperienza di un'altra persona così legati alla possibilità di intuire quelle che sono i suoi stati della mente e partecipare con l'identificazione a quello che sta vivendo quindi la dimensione empatica che è una dimensione cruciale nell'esperienza narcisistica è anche qualcosa che ha una sua dotazione temperamentale quindi ricordiamoci che quando parliamo di narcisismo non parliamo soltanto delle cure primarie o della struttura della personalità in base alle esperienze parliamo anche di una dotazione e di una diciamo così movimentazione neurale che consente sulla base dei meccanismi del rispecchiamento con l'altro di essere più o meno attivata anche sulla base di inibizioni o disinibizioni che appartengono alla neurologia quindi c'è molta mente c'è molta personalità ma c'è anche molto cervello nella strutturazione delle vite narcisistiche e poi vedremo meglio in che senso quindi arrivano dal temperamento queste strade che costituiscono diciamo così la nostra dimensione narcisistica arrivano dal tipo di accudimento ricevuto e arrivano dalle circostanze arrivano dal contesto quello appunto che diceva anche Christopher Lash nel suo libro dalla cultura contestuale in questo modo ho evocato quella che è la formula che gli studiosi diciamo così di vita mentale utilizzano sempre per spiegare e per certi aspetti non spiegare perché molto è anche davvero poco conoscibile del funzionamento mentale del funzionamento della personalità cioè la formula biopsico sociale cosa c'è al di fuori del biopsico sociale niente quindi è una formula che spiega molto perché ci aiuta a capire che siamo il risultato di un intreccio di componenti biologiche psicologico ambientali e culturali sociali ma anche spiega poco perché mette dentro tutto quello che c'è a disposizione quindi è come cucinare un piatto con tutti gli ingredienti a disposizione però è effettivamente vero che non riusciamo a spiegare le condizioni narcisistiche in cui molte situazioni anche sotto gli occhi di tutti proliferano prima tra tutti per esempio quella della politica però anche in gran parte quella delle relazioni personali delle relazioni mediate dai social network dalla necessità di raccontarsi per storie per immagini per piatti cucinati per pettinature cambiate per fidanzati cambiati ecco diciamo questa autonarrazione che è un'autonarrazione consentita dalla possibilità di proliferare su mille schermi è sicuramente una dimensione sociale che raccoglie un'esigenza psicologica individuale che è anche temperamentale quindi nell'arcipelago del narcisismo ci sono anche tutti i riferimenti a tante diciamo così approcci possibili auspicabilmente integrati che consentono la lettura di questo fenomeno per fronteggiare queste sfide narcisistiche dentro le quali ci troviamo a navigare queste isole appunto che ho chiamato insicurezza egocentrismo rabbia invidia vergogna ma ce ne potrebbero essere tante tante altre facciamo a volte la coda come i pavoni altre volte carichiamo come fossimo invece torri altre volte ci gonfiamo come dei tacchini certe volte twittiamo come degli usignoli o volteggiamo come delle farfalle perché non dimentichiamo che la componente della seduzione è una componente della lusinga narcisistica dentro la relazione oppure ci mimetizziamo come camaleonti perché un'altra tematica della personalità narcisistica consiste proprio nel temere a tal punto di essere messi sotto un riflettore cosa paradossale perché il desiderio narcisistico è stare sotto un riflettore ma temuto così tanto da spingere al mimetismo camaleontico o al nascondimento quindi per sentirci invulnerabili di fronte a tutte queste sfide che come avete visto ho elencato scherzosamente anche attraverso diciamo così i diversi modi che abbiamo di interpretarle in base molto ai nostri caratteri per non sentire a volte per esempio il sapore dell'umiliazione o della paura ci costruiamo ciascuno di noi si costruisce un vestito con la stoffa che ha a disposizione e questo è un tema molto importante sono partito dicendo tutti siamo narcisisti ho continuato dicendo non tutti nello stesso modo non tutti con la stessa intensità con la stessa pervasività e con la stessa capacità di far soffrire o di soffrire ma anche con sfumature direi tipologiche proprio come una sorta diciamo così di fattoria di animali diversi come evocavo scherzosamente che mettono in scena le diverse possibili modalità di adattamento alle esigenze narcisistiche che abbiamo quindi siamo i sarti del nostro narcisismo può essere un abito molto elegante oppure può essere un abito semplicemente adatto all'occasione oppure può essere un travestimento insincero e autocelebrativo troppo appariscente oppure dimesso ma in modo sospetto ecco ho rotto un po' il ghiaccio leggendo queste pagine anche per condividere con voi la bellezza da un certo punto di vista di trasmettere attraverso la comunicazione quelle che sono delle acquisizioni che avvengono in un luogo tutt'altro che pubblico come queste ma in un luogo molto segreto molto intimo che è quello della stanza di consultazione terapeutica ma è anche in realtà invece l'esperienza della vita di tutti i giorni perché tutti noi ci siamo misurati oltre che con le nostre sfumature narcisistiche anche con la convivenza difficile con un partner piuttosto attivo diciamo sul versante narcisistico oppure di un collega o di un capo e quindi diciamo viviamo dentro questa rete come navigare questa questi mari allora io credo che un po' è una mia passione la possibilità di fotografare e descrivere le diciamo configurazioni di una condizione lo si può fare con le condizioni depressive lo si può fare con le condizioni per esempio legate ai disturbi dell'alimentazione non tutte le persone anoressiche sono uguali ce ne sono alcune con caratteristiche per esempio di perfezionismo e altre con caratteristiche magari di disregolazione emotiva ecco quali sono le configurazioni che compaiono diciamo così nell'arcipelago N quali sono queste variazioni del narcisismo allora le variazioni del narcisismo sono prima di tutto quelle della fragilità vorrei partire dal narcisismo della fragilità tutti pensiamo che narcisismo è una brutta parola che dice io sono più bello più ricco più intelligente più importante di te quindi stai zitto e ascoltami questo è il narcisismo che guarda dall'alto in basso c'è un narcisismo che guarda dal basso in alto e che è il narcisismo che dice tu hai tutte quelle cose che io non ho e che vorrei avere e per questo siccome tu le hai e io le vorrei avere ma non le ho prima le invidio ma poi potrei anche odiarle e vorrei anche distruggerle quindi una cosa che dobbiamo capire dell'aspetto fragile cioè non prepotente ma soggiogato del narcisismo è un vedere il mondo da un angolo pensare di non essere abbastanza importanti per essere apprezzati e per essere presi in considerazione e convalidati e celebrati ma desiderarlo fortemente coltivando intanto questa incapacità di gratitudine e per esempio di aver ricevuto qualche cosa proprio perché tu non l'avevi e l'hai data perché tu l'avevi e l'hai data a me che non l'avevo la tematica narcisistica fragile nei rapporti per esempio maestro allievo nella vita accademica è una tematica molto forte molto importante proprio perché mette diciamo così clianianamente in discussione il continuo gioco dell'invidia e della gratitudine è molto bello pensare al fatto che dopo una vita sicuramente di vastità narcisistica però anche di grande intelligenza Oliver Sacks ha intitolato l'ultimo suo libro Gratitudine cioè un modo di dire ho occupato tanto spazio anche con la mia intelligenza anche con la mia curiosità anche con la mia magnifica scrittura e con la mia vita eroica di neurologo scrittore però voglio lasciarvi ha scritto Gratitudine quando aveva un brutto tumore all'occhio sapeva che mancava pochissimo ma ha intitolato un libro Gratitudine questo è significativo anche del fatto che la personalità narcisistica deve giocarsi sulla base della capacità di provare alcuni sentimenti e che quindi esistono narcisismi grandi e generosi anche se ingombranti e narcisismi più piccoli e invidiosi e a volte maligni per esempio un'altra caratteristica della fragilità narcisistica cioè dei narcisisti che diciamo così non appaiono in modo sicuro sulla scena della vita ma stanno un po' dietro l'angolo è desiderare il fallimento dell'altro c'è una parola tedesca che fa riferimento a questo sentimento la Schadenfreude cioè se questa cosa ti va male anche se a me non cambia niente non stiamo competendo per lo stesso posto ma se questa cosa ti va male io sono un po' contento perché vuol dire che non sarai felice e siccome io non sono felice siamo sulla stessa barca questi non sono solo discorsi diciamo così sulla varietà e la complessità dell'animo umano purtroppo sono discorsi che ritroviamo semplificati anche nella drammaticità cruenta della cronaca nera mi ha molto colpito leggere di un episodio terribile accaduto in Puglia mi sembra un paio di anni fa di un ragazzo che ha ucciso una coppia lei era una sua ex e la prima cosa che ha detto quando è stato arrestato è stata erano troppo felici ecco questa è la manifestazione estrema criminale di un sentimento che abita questa condizione che chiamiamo il narcisismo della fragilità per dire la verità un grande psicoanalista del secolo scorso che si chiamava Rosenfeld e che iniziava a occuparsi delle tipologie narcisistiche aveva coniato questa espressione narcisismo a pelle sottile è il narcisismo a pelle sottile perché oltre alle caratteristiche che vi ho appena descritto è anche facilmente è molto permaloso è molto vulnerabile alla critica ha sempre la sensazione di essere fuori posto e di non essere abbastanza valorizzato da un certo punto di vista in questa famiglia dei narcisismi a pelle sottile troviamo delle persone molto gentili dove però la gentilezza e qui entra in campo l'aspetto relazionale la competenza relazionale che ci fa cogliere che qualcosa non torna in quella gentilezza capiamo che non è per farci stare bene per fare una cosa gentile nei nostri confronti ma per conquistare la nostra benevolenza per diventare qualcuno di visto e di valorizzato spesso accade anche all'interno delle coppie dove c'è una persona che si sente in una condizione di irrilevanza e che è servizievole per conquistare un posto nell'opinione dell'altro ma succede molto nei posti di lavoro e succede molto in generale nelle forme diciamo così di relazione sociale dove chi è più importante riceve molte attenzioni quindi in questo caso diciamo così nutriendo il narcisismo quel narcisismo che non avrebbe bisogno di nutrimento perché io invece ho bisogno di ricevere di riflesso la luce di quello che siccome sono stato gentile con lui e gli ho fatto delle cortesie si accorgerà di me vedete che i copioni di queste storie sono scritti chiaramente nella prima infanzia cioè nel modo in cui i genitori che ergivere poi via via le esperienze ci hanno fatto sentire di primo o di secondo piano naturalmente il narcisismo di pelle sottile ha una corrispondente a un gemello inverso che è il narcisismo di pelle spessa come sempre Herbert Rosenfeld lo chiamava ma come ho scoperto con grande curiosità anche un grandissimo genio letterario della psicologia che è Carlo Emilio Gadda a un certo punto mi sembra nell'Adalgisa Gadda dice l'impenetrata pelle dell'ippopotamo egolatra questa impenetrata pelle dell'ippopotamo egolatra che fa riferimento proprio alla cotenna a quello su cui le cose rimbalzano è il narcisista a pelle spessa le cui caratteristiche non sono assolutamente quelle della autosvalutazione per idealizzare l'altro ma al contrario sono quelle della svalutazione dell'altro per idealizzare se stesso sono le persone che si sentono importanti sono le persone che occupano molto spazio e di solito sono le persone che preferiscono parlare per essere ascoltati piuttosto che tacere per ascoltare che cosa hai da dire tu e questo ci ricollega a un passaggio molto importante del mito la storia mitica di poi riprendo un po' le mie divagazioni diciamo così descrittive delle tipologie pelle spessa pelle sottile narcisismo sano e poi navigheremo un po' sul versante del narcisismo maligno magari evocando un personaggio politico internazionale che è stato presidente di un paese molto grande e ha raccontato al mondo che cosa può essere la malignità narcisistica ma ci arrivo dopo invece volevo fare una piccolissima sosta nel mito per dire che quando nasce Narciso Ovidio ce lo racconta meravigliosamente la mamma che si chiamava Lirope era una ninfa e Narciso è il figlio di una violenza perché il fiume cefiso con i suoi vortici stupra la ninfa Lirope e la ingravida nasce questo bellissimo figlio che si chiama Narciso amato vezzeggiato da tutti e naturalmente come tutte le mamme Lirope vuole sapere che destino avrà questo bimbo e allora va dal grande oracolo del tempo il grande oracolo del tempo era Tiresia e gli chiede mio figlio conoscerà la vecchiaia cioè mio figlio vivrà a lungo ricordate anche che nell'antica Grecia l'età media non era certo la nostra e quindi c'era sempre una preoccupazione sull'attesa di vita che cosa gli risponde Tiresia si se non noverit se non si conoscerà chiama un pochino diciamo così la sapienza greca fa un balzo quando legge nelle metamorfosi di Ovidio questa risposta perché dice ma l'oracolo per eccellenza quello che c'è scritto sul tempio di Apollo non è conosci te stesso come è possibile che questo qui solo se non si conoscerà vivrà a lungo perché se si conoscerà morirà giovane infatti Narciso muore giovane perché si conosce subito innamorandosi della sua immagine nel riflesso ma diciamo così la prepotenza psicoanalitica spinge a interpretare questo oracolo di Tiresia come dire che in realtà bisogna morire presto al proprio narcisismo per avere un'attesa di vita autentica e di una vita che può effettivamente celebrare il detto delfico del nozis auton perché in questo modo la parte che tutti i bambini e anche giustamente tutti gli adolescenti hanno quella che uno dei più grandi psicoanalisti del narcisismo Heinz Cout chiamava proprio il sé grandioso ecco questo sé grandioso a un certo punto deve morire e invece nel caso del mito muore Narciso era così innamorato di sé che anche quando viene trasportato nell'Ade non resiste e si guarda nelle acque dell'ostige pur di rivedere la sua immagine e quello che intendevo dire prima raccontando questa storia è che c'è una figura bellissima nel mito che è Eco Eco non fa altro che dire a Narciso ti amo ma Narciso non risponde rimbalza questa dichiarazione d'amore e l'Eco continua a ripetere la dichiarazione d'amore che non viene accolta che non viene recepita ecco questa dimensione non ricettiva non permeabile la pachidermica egolatria di cui parlava Gadda e quindi a Eco non rimane che un destino terribile nel mito rinsecchirsi scomparire nel suo corpo e rimanere solo una voce che dice ti amo senza essere ascoltata a questo punto è bellissimo citare quello che dice a un certo punto Roland Barthes nei discorsi nei frammenti di un discorso amoroso quando dice che se qualcuno ti dice ti amo la risposta giusta non è anch'io perché questo è un Eco la risposta giusta è ti amo anch'io quindi l'affermazione del verbo che indica l'attenzione e l'immedesimazione in una relazione che indubbiamente ha delle componenti narcisistiche perché non si ama se non c'è un po' di idealizzazione ma l'importanza della morte dell'elemento narcisistico nella relazione amorosa è proprio la capacità di lasciare spazio al riconoscimento ed entrare in quel movimento che non è l'impermeabilità di fronte alla dichiarazione e quindi l'Eco ma è il movimento di ritirata di fronte al passo dell'altro e al tempo stesso la possibilità di compiere un passo di fronte alla ritirata dell'altro una parola bellissima che è assente dal vocabolario narcisistico è reciprocità perché è importante a questo proposito parlare di reciprocità perché recus procus cioè retrocedo perché ci sei tu e poi procedo perché ci sono io la diastole e la sistole la battigia cioè i grandi simboli della vita il battito del cuore che si apre e si chiude l'onda del mare che arriva a bagnare la spiaggia ma poi si ritira ci dà la dimensione principale della diciamo così declinazione umana e possibile e possibilmente amorosa dell'esperienza narcisistica che è il movimento mentre invece il narcisismo è la fissità è la staticità cosa vuol dire in greco narciso narche narcotico narcolessia vuol dire torpore vuol dire sonno vuol dire anestesia il mito di narciso è un mito di morte perché quell'acqua riflette un'immagine identica a se stesso che non ha ascoltato la dichiarazione d'amore e finisce così nella 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 consunzione e dalle lacrime di narciso che non è ricambiato da un'immagine che non può ricambiarla perché è una proiezione idealizzante di sé nascerà questo fiore che è appunto il narciso il fiore del torpore il fiore della staticità e dell'anestesia quindi tornando diciamo così alle nostre tipologie narcisistiche e alla importanza diciamo così di coglierne le infinite sfumature nella letteratura nel cinema nell'esperienza personale e anche nella lettura di sé non solo nella letteratura di sé ma anche nella lettura di sé abbiamo un passo successivo che dal narcisismo grandioso di pelle spessa quello che occupa molto spazio quello che non ha empatia quello che è solo preoccupato di sé entriamo in un territorio che si chiama narcisismo maligno è un territorio che è stato abbastanza alla ribalta della cronaca politica nordamericana perché contravvenendo a una regola molto importante che si chiamava regola goldwater in cui gli psichiatri e gli psicoanalisti e gli psicologi americani avevano deciso di non fare mai giustamente diagnosi fuori dal setting perché una diagnosi di personalità come il disturbo narcisistico di personalità lo puoi fare nell'incontro clinico se non lo fai sei uno che fa le diagnosi senza vedere i pazienti quindi deontologicamente è una cosa orribile ma dopo tantissimi anni da questa regola goldwater per cui appunto americani degli anni 50 60 avevano diagnosticato un candidato alla presidenza americana questo goldwater dicendo che era instabile mentale eccetera ma lui vinse la causa dicendo mi giudicate così nessuno mi ha visitato e quindi da allora regola goldwater poi durante la campagna elettorale di trump gli psichiatri gli psichiatri americani hanno detto noi la rompiamo questa regola perché le manifestazioni pubbliche del narcisismo di trump sono così maligne che possiamo diagnosticarlo anche fuori dal setting e ricordarono per esempio una frase che fece molto scalpore al tempo mi sembra dell'inizio della campagna elettorale in cui trump disse se anche prendessi una pistola e sparassi a qualcuno nel mezzo della quinta strada gli americani mi voterebbero lo stesso quindi vedete che c'è un germe di malignità prepotente e aggressiva aggiungete la misoginia aggiungete le frasi e le considerazioni dette sulle donne reificate il famoso grab the pussy di donald trump che diceva le donne hanno solo bisogno di qualcuno che allunghi le mani su di loro ecco che si costruisce la fisionomia adesso lasciamo trump al suo destino anche perché come spesso accade la parabola del narcisismo maligno si infrange sugli scogli appunto del fallimento e dell'insuccesso però la cosa importante da dire è che quando la grandiosità narcisistica quella pelle spessa si infiltra di sadismo cioè il godimento del dispiacere dell'altro di paranoia cioè io sono così importante che tutti mi invidiano e tutti ce l'hanno con me quindi devo prendere le mie misure di manipolazione strumentale a fini personali per raggiungere i propri obiettivi ecco questo è il territorio del narcisismo maligno un territorio di narcisismo maligno che incontriamo raccontato in moltissime storie cinematografiche per esempio non soltanto diciamo così il narcisismo grandioso quello a pelle spessa ma non criminale che incontriamo per esempio in un bellissimo film come Blue Jasmine se ve lo ricordate di Woody Allen dove Cate Blanchett ha una ipertrofia narcisistica che crolla di fronte al fallimento economico del marito o ancora meglio Orson Welles in Citizen Kane dove il suo trionfo narcisistico si conclude nel riflettersi in mille specchi nella sua dimora Xanadu nella solitudine dopo che Susan l'ha lasciato abbiamo il narcisismo maligno lo vogliamo forse chi ha più anni come me si ricorda Gaslight Angoscia il film di Kukor in cui Charles Woyer per convincere la Bergman di essere pazza e per quindi poterla manipolare per ricevere un'eredità gliene fa di tutti i colori approfittando dell'innamoramento di lei ecco qui la malignità narcisistica che si tinge poi di coloriture francamente psicopatiche quando si arriva non soltanto alla manipolazione a fini personali ma addirittura al comportamento vero e proprio e qui mi piace citare come uno dei più belli esempi che ho letto recentemente di letteratura che racconta anche eventi della vita reale La città dei vivi di Nicola Laggioia dove due giovani criminali con una strutturazione disperatamente narcisistica in poco tempo raggiungono scalano tutta diciamo così il continuo narcisistico dalla fragilità alla psicopatia alcuni ricorderanno che si sono appunto resi colpevoli delle sevizie e dell'uccisione di un giovanissimo ragazzo esclusivamente diciamo così utilizzato ai fini del loro divertimento sadico l'uso dell'altro senza empatia la trasformazione dell'altro in un oggetto per il proprio compiacimento è il carattere della psicopatia narcisistica che per arrivare a esempi più recenti e poi mi avvio a concludere la ritroviamo in serie televisive tipo The Serpent che secondo me racconta bene un aspetto della patologia narcisistica psicopatica cioè questo criminale che è molto capace di intuire la fragilità dell'altro avvicinarsi seduttivamente per segnalargli che potrà aiutarlo e poi stritorarlo nelle spire narcisistiche dello sfruttamento della fraudolenza e del furto e l'altra è The Undoing una serie quella con Nicole Kidman e Hook Grant in cui un straordinario high society medico di Manhattan in realtà all'interno di una relazione amorosa non riesce a tollerare la sfida che questa amante gli pone e utilizza la soluzione narcisistica psicopatica più comoda cioè ti metto a tacere e lo fa in modo piuttosto cruento siccome sono partito dal narcisismo buono quello che abita le vite di tutti e anche gli amori di tutti e fa parte dell'inevitabile come dire il legno storto dell'umanità qualcuno diceva quindi fa parte inevitabilmente della nostra fragilità della nostra ricchezza della nostra crescita e della necessità di affrontare anche queste sfide che stanno dentro di noi e stanno nella relazione ma poi sono arrivato invece a parlare dei criminali e degli psicopatici o dei politici diciamo un po' troppo prepotenti allora vi lascio con una parola sulla terapia le personalità narcisistiche anche i disturbi narcisistici di personalità si possono curare si possono ascoltare si possono ritrovare nei percorsi difficili di vita avuti nell'infanzia e si possono anche contenere nell'esemplificazione di una relazione terapeutica che non cede all'idilio narcisistico o alla sopravvalutazione dell'altro o a tutti quei sentimenti anche difficili che i clinici vivono soprattutto nella relazione con pazienti narcisisti molto intelligenti ma molto dominanti naturalmente il narcisista fragile è più consapevole della sua sofferenza e viene a chiedere un aiuto terapeutico perché non tollera i sentimenti di indegnità e di vergogna e la fatica di vivere sentendosi sempre non importante non importante per nessuno il narcisista a pelle spessa difficilmente viene in terapia perché non ha bisogno appunto di nessuno ma viene in terapia quando fallisce quando qualcosa nel suo disegno va storto quando entra in quella dimensione che si chiama depressione narcisistica che indica un crollo e che proprio come dice l'oracolo di Tiresia è il punto da cui la cura può ripartire grazie 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 a tutti grazie a tutti